Ciao a tutti dal Salutatore direttamente dai campi sportivi del Bettini, eccomi qui con Leo, con Lorenzo, con Cenerentola, poi Mary Reed, poi Guncina, poi Jack Sparrow, Capitan America, il Salutatore e abbiamo un nuovo personaggio, il supereroe. Lui è veramente un supereroe, il grandissimo Mauro, salutiamo allora tutti gli amici di Leo, Lorenzo e Mauro, che sanno superpe, che sanno dappertutto, salutiamoli tutti. Ciao a Leo, ciao e poi abbiamo anche qui la mamma, salutiamo tutti quanti e poi una sorpresa per Leo una manina del Salutatore e per Lorenzo Anni, ciao!